Il parere che presento oggi pomeriggio qui al Comitato delle Regioni è sul secondo pacchetto di preposte della Commissione Europea in materia di diritto d'asilo. Fa seguito al parere sul primo pacchetto di proposte che approvammo nella seduta dell'8 dicembre a larga maggioranza. Si tratta quindi di un ampio progetto di insieme che affronta una materia in cui l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabilisce, ebbene non dimenticarlo, il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri. La solidarietà è anche un elemento essenziale della coesione territoriale. I Comuni e le Regioni che noi rappresentiamo sono il luogo di impatto del fenomeno migratorio, essendo responsabili per la gestione di accoglienza e successiva distribuzione dei migranti, ma anche per l'assistenza sociale e quella sanitaria. Nel complesso, colleghi, pur con molti aspetti di criticità, le proposte del secondo pacchetto appaiono a me equilibrate, ma mi danno anche l'impressione di non essere risolutive. Risentono del limite già evidenziato nel primo pacchetto. Non tengono sufficientemente conto dell'aspetto strutturale del fenomeno migratorio ed è la tendenza costante nel medio periodo all'aumento dei richiedenti. Il principio del contenimento sovrasta l'idea di indirizzare i flussi valorizzando i fattori che possono favorire l'integrazione e la tranquillità sociale. Nella proposta di regolamento in materia di criteri comuni per il riconoscimento della protezione internazionale, la Commissione sottolinea le divergenze che ha riscontrato nelle decisioni degli Stati membri. Per esempio, nel 2015 l'Italia ha accolto il 100% delle domande dei richiedenti provenienti dall'Afghanistan, mentre la Bulgaria meno del 6%. La Germania e la Grecia hanno riconosciuto ai siriani sempre lo status di rifugiato, mentre altri paesi come l'Ungheria, la Repubblica Ceca, ma anche la Svezia, hanno concesso loro solo la protezione sussidiaria. Su questa proposta il parere contiene anche alcuni emendamenti legislativi e raccomandazioni. Gli emendamenti sono volti a consentire di valutare anche il parere di fonti indipendenti, sottolineo anche non alternativo alla valutazione dello Stato, ma come fonte di integrazione, in modo da verificare se le condizioni in cui versa il Paese da cui provengono i migranti ha i requisiti per avere il diritto di asilo. Nelle raccomandazioni si esprime la perplessità sulla introduzione di un limite massimo alla durata della protezione e comunque ne chiedo il prolungamento. Gli emendamenti che sono stati presentati o esprimerò e ho espresso parere favorevole in quelli che lo arricchiscono e integrano i principi, su altri evidentemente il parere contrario perché snaturerebbero il senso delle digrazioni che ho sin qui fatto. Grazie Presidente, mi limito a questa breve considerazione per le ragioni che ho detto. Grazie.